Comincia da Siena l'avventura 2021-2022 della Vispesero in Serie C, una prima di campionato prevista il 29 agosto che alla emanazione dei calendari rispolvera una partita che sintetizza già la nuova dimensione orizzontale della Serie C Girone B protesa dall'Adriatico al Tirreno. Si comincia da Siena partita che la Vis non gioca da 30 anni, decenni in cui la città del Palio ha assaporato la Serie A per poi precipitare in Serie D da dove in estate è stata ripescata nel professionismo. Un direttore sportivo d'altra categoria come Giorgio Perinetti e un allenatore ex campione del mondo come Alberto Gilardino sono il biglietto da visita del Siena che affronterà la Vis. Ed è Toscana anche la prima avversaria che farà tappa al Benelli, il Pontedera che sarà a Pesaro il 5 settembre, dopodiché doppia trasferta abruzzese contro una delle big del campionato come il Pescara retrocesso dalla cadetteria e poi si va a Teramo. Alla quinta giornata figura invece una X molto intrigante che si scioglierà domani con il pronunciamento del collegio di garanzia del Coni sul ricorso del Fano contro l'esclusione dalla graduatoria di ripescaggio. Se saranno avvalorate le ragioni dei Granata, la Vis ospiterà il derby già il 26 settembre. In alternativa ci sarà il comunque affascinante revival della sfida fra Pesaro e gli amici gemellati della Pistoiese che sarebbero ripescati al posto del Fano. Il calendario dice anche che il campionato della Vis si concluderà al Benelli il 24 aprile con l'Ancona Matelica, due vecchie conoscenze ora fuse assieme in una nuova società. La Vis intanto avrà il suo primo impegno ufficiale al Benelli il 21 agosto con il primo turno di Coppa Italia. A Pesaro arriverà il Modena dell'ex Manuel Di Paola che si candida ad essere una delle favorite per il salto in Serie B. La Vis ci si prepara lavorando sul campo e costruendo la sua nuova identità attraverso una spina dorsale che ora parte dagli esperti Gavazzi e Coppola. Le prime impressioni sono positive nel senso che abbiamo un gruppo completamente nuovo però un gruppo che ha voglia di dimostrare qualcosa, ha voglia di far sacrificio, ha grande propensione al lavoro e secondo me è la base per fare un buon campionato di Serie C. Dopo cosa si potrà fare lo vedremo col tempo però una volta che dai tutto quello che puoi dare secondo me basta quello. C'è voglia di lavorare, voglia di sacrificarsi uno per l'altro, per me quello è il punto di partenza e deve essere il nostro punto di forza quando cominceranno le partite vere. Mi è piaciuto subito l'ambiente che c'è perché è veramente una grande famiglia, ho trovato tutti uniti, tutti remiamo dalla stessa parte, nessuno si sente una prima donna, tutti questi sono componenti fondamentali secondo me per fare bene soprattutto in Serie C. Dal primo giorno che sono arrivato ripeto ho trovato ragazzi fantastici, umili, una vera e propria famiglia, infatti mi sono integrato benissimo, sono arrivato con Manetta un paio di giorni dopo e subito mi sono integrato bene perché veramente ripeto è un gruppo fantastico, quindi io per esperienze precedenti dico che questo fa l'80% della squadra, il gruppo, anche magari quando sei carente in altre cose però se sei gruppo così riesci ad uscirne fuori anche dai momenti difficili in maniera più facile diciamo. Sono un mediano, un centrocampista centrale diciamo di lettura, mi piace anche abbastanza giocare palla però sono più, sono bravo soprattutto nell'interdizione diciamo nelle letture di gioco. Vabbè in carriera ho fatto tanti ruoli, ho fatto anche il difensore, il fatto c'è un visto centrale, la mezzala, a volte anche il terzino ho fatto quindi però come naturalmente c'è un visto centrale mediano. Il nostro obiettivo diciamo è portare entusiasmo, far bene e soprattutto quello che il mister ci dice ogni giorno è non aver paura di nessuno, cioè noi andiamo in campo con le nostre idee, facciamo la nostra partita, che giochiamo col San Marino, giochiamo con il Modena di turno che è la corazzata, noi andiamo in campo per fare la nostra partita. Poi secondo me quando hai un gruppo unito e fai bene le cose, ti alleni bene tutti i giorni, a volte fai delle annate inaspettabili. Speriamo bene.